All'interno di un contesto di rigenerazione urbana, il comune di Pordenone ha individuato alcuni appezzamenti di terreno di sua proprietà da destinare ad orti urbani, che possono essere coltivati dai suoi cittadini. In tal modo si vuole coinvolgere la popolazione in attività che creino aggregazione sociale, facendo crescere il senso di appartenenza alla comunità e favorendo anche un'alimentazione sana e sicura. Inoltre, utilizzando i terreni incolti o abbandonati, si recuperano gli spazi pubblici rendendoli più belli e curati, si combatte il degrado e si tutela l'ambiente. In città esistono quattro aree destinate ad orti urbani nei quartieri di Villanova, Rorai Grande, Torre e in Largo Cervignano. Su 128 appezzamenti coltivabili, 39 risultano non assegnati. 17 sono a Villanova, 13 a Rorai Grande e 9 a Torre. Per questo il comune ha pubblicato un bando attraverso il quale si può fare richiesta per ottenere un lotto da coltivare. L'esperienza dell'orto è sicuramente una bella esperienza che consigliamo di fare alle famiglie anche. È un modo per stare all'aria aperta, è un modo per contribuire al bilancio familiare con prodotti coltivati da sé, è un modo appunto per stare anche in famiglia oppure per le persone anziane per fare un po' di condivisione, si chiamano infatti orti sociali urbani e questo è lo scopo di creare anche nuove amicizie, di condividere qualcosa e rientra in quella rigenerazione urbana che vede sempre di più le aree verde al centro dell'attenzione di questa amministrazione. Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito del comune www.comune.pordenone.it. Possono presentare domanda i cittadini residenti a Pordenone, scuole, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e onlus che non sono già segnatari di un orto sociale. Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 1 settembre 2023.